buongiorno signori buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video oggi davvero dovete essere carichissimi perché su questo pezzo di carta c'è impressa una delle regole più importanti che tu possa applicare e scoprire nella tua vita sicuramente ormai l'avrai letta dal titolo e stiamo parlando della regola che si applica nel momento in cui vuoi acquistare una auto ed è la regola del 24 10 fidati che dopo che avrai visto questo video capirai tante tante cose quindi prima di cominciare direi che già mi merito un like così a fiducia iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto attiva la campanellina cliccandoci sopra per ricevere tutte le notifiche dei video e rimanere sempre aggiornato in descrizione trovi tutti i link utili tra cui anche i miei portafogli con dei bonus proprio per te bene eccoci qui a parlare di questa incredibile regola faccio una piccola precisazione dopo approfondirò quello che vi sto per dire perché secondo me questa regola nasce tanto per gli americani soprattutto in uno step però in generale è applicabile anche per noi partiamo nel capire adesso cos'è questo 24 10 20 è una percentuale ed è il 20 per cento del prezzo finale dell'auto ovvero l'anticipo che devi dare la macchina costa 10.000 tu ti devi impegnare a dare il 20 per cento non riesce a procurarti il 20 per cento da dare d'anticipo quella macchina non fa per te non puoi permettertela non acquistarla ok ad esempio su 20.000 sono 4.000 tu puoi dare 4.000 euro di anticipo no quella macchina non te la puoi permettere 4 sono gli anni massimi di finanziamento che puoi fare se devi allungare di più per potertela permettere assolutamente no altra cosa importante è l'ultimo il 10 10 per cento deve essere la spesa massima mensile in relazione al tuo stipendio che riguarda l'auto prendi 1500 euro di stipendio la macchina non ti deve costare più di 150 euro al mese ok so che quest'ultimo è un punto poco italiano perché dentro queste spese dell'auto gli americani ci inseriscono anche il carburante posso benissimo capire che mediamente un operaio prende 1400 euro difficilmente in 140 euro ci farà stare benzina e prestito per l'auto e tanto altro quindi quello è sicuro che non è applicabile qua da noi nella maggior parte dei casi però direi di prendere i primi due punti come riferimento perché in quest'ultimo periodo effettivamente sta nascendo questo bisogno di cambiare vettura effettivamente la mia inizia avere più di 190 mila chilometri quindi sto capendo in che direzione andare e questa regola effettivamente mi è servita tantissimo provate a pensare magari sognate un'auto che costa 15 mila euro quell'auto ok dite 15 mila euro è fattibile ma ce l'hai un anticipo di 3000 euro poi riesce a pagare in quattro anni l'auto se ti esce una rata troppo alta in confronto a quello che è il tuo stipendio mi raccomando non fare questo acquisto è un primo indicatore del fatto che con la macchina in realtà tu non te la possa permettere ritornando al punto del 10 per cento sono consapevole anche che se lo stipendio appunto medio è 1200 1400 nemmeno la rata del finanziamento dell'auto ci sta in quella cifra io direi che una cosa più sensata è stare su circa il 15 per cento massimo dello stipendio per quanto riguarda la rata del finanziamento poi il carburante non lo si può gestire in italia è un prezzo troppo elevato ne parlavo nello scorso video dove parlavo effettivamente delle spese nascoste che porta l'auto un debito continuo vi invito ad andarlo a vedere vi vi lascio nelle schede se mi ricordo se non cercate sul canale lo trovate e quindi questa regola qui è molto importante certe volte non ci rendiamo conto che forse sì abbiamo un lavoro magari indeterminato ma non vogliamo che sia indeterminato anche il pagare l'auto quindi se state per acquistare un'auto applicate questa regolina almeno per i primi due step poi ripeto il terzo è un po complicato e vi consiglio il 15 per cento per quanto riguarda finanziamento e guardate il video del debito nascosto che parla dell'auto vi può aprire di tantissimo gli occhi effettivamente non capisco perché in italia non se ne sia ancora parlato forse perché siamo un popolo che effettivamente abbastanza attaccato alle auto sia per un proprio piacere personale sia perché con per forza di cose come ne parlavo già appunto nell'altro video siamo quasi obbligati nella maggior parte dei casi o forse senza il quasi a dover acquistare un'auto e farci tantissimi chilometri per poter andare a lavoro io capisco che la macchina non debba assolutamente essere considerata come investimento però deve essere sicuramente considerata come spesa obbligatoria debito obbligatorio per poter lavorare e questa cosa è abbastanza incredibile se ci fossero dei mezzi migliori esempio germania e inghilterra tanti altri posti austria sicuramente la cosa sarebbe differente e l'auto sarebbe solo un piacere io spero che questa regola vi possa aiutare nella vita io poi vi farò imparare nuove regole voi nei commenti ecco scrivetemi se già conoscevate quest'idea se utilizzavate un metodo di valutazione per i vostri acquisti per quanto riguarda l'auto se si condividilo nei commenti che è importantissimo e anche un po per vedere effettivamente se questa cosa vi cambierà la vita perché secondo me può dare tanto tanto indietro ripeto ci sono certe persone che vorrebbero acquistare quest'auto da 20.000 euro e però si ok prendo 1.500 euro lavoro ce le hai 4.000 euro di anticipo e da pagare chissà quanto al mese è un discorso differente è un discorso differente io se posso darvi un consiglio se fate tanti chilometri puntate tipo su il gpl se vogliamo parlare ad esempio delle vetture comunque piccola parentesi prima di chiudere il video vi ringrazio tantissimo di tutto il supporto che mi state dando in questi giorni anche su miniamo.it che è un progetto che vabbè magari non conoscete chi sta guardando questo video per adesso siamo in sold out e lo saremo per diverse settimane grazie mille per aver visto questo video ci vediamo domani con un altro video niente siete migliori e applicate la regola del 24 10 non vela dimenticate mai so che il desiderio è grande di cambiare auto ma prima di tutto la nostra sicurezza finanziaria per la nostra sicurezza finanziaria